Si elevava una nube, ma chi guardava da lontano non riusciva a precisare da quale montagna. Si sape poi che era il Vesuvio. Nessun'altra pianta, meglio del pino, ne potrebbe descrivere la figura e la forma. Infatti, slanciata in su come se si sorreggesse su un altissimo tronco, si allargava in quelli che si potrebbero chiamare dei rami. Innalzata dal turbine, subito dopo l'esplosione, poi privata del suo sostegno, vinta dal suo stesso peso, si dissolveva allargandosi. Talora bianchissima, talora sporca o macchiata, si aveva trascinato con sé terra o cenere. E una nube nera e terribile, squarciata da guizzi serpeggianti di fuoco, si apriva in vasti bagliori d'incendio, simili a folgori, ma assai più estesi. Dopo non molto tempo, quella nube si abbassò verso terra e coprì il mare, avvolse e nascose capri e miseno. Pliny the Younger Gives Tacitus a dramatic description Of the 79 AD eruption of the Vesuvius. Pliny was safe in Cape Mycenae, But the great eruption Buried Pompei and Herculaneum. A good part of the devastation During an explosive eruption Is due to pyroclastic flows. Very hot clouds of gas and ashes Travelling at high speed Down the flanks of the volcano. These currents can move At a speed of over 100 km per hour And can hold temperatures Of hundreds of degrees centigrade Even at a distance Of several kilometers from the crater. The worst hazard from a volcano Is the pyroclastic flow Or surge And these hot clouds of ash and gas Can travel very long distances And be very destructive. And we discovered at Mount St Helens That many people could be killed Because in 1980 when it erupted It did erupt without warning Even though there had been Two months of unrest in the volcano. And it is this unpredictability Which makes it so important To learn more about how to protect people. The volcanoes are one type of natural hazard Where we need to understand more About how people are injured and killed In order to find better ways Of preventing loss of life In natural disasters. Un volcano si studia Studiando l'attività passata L'attività passata si vede Studiando le rocce Che sono state emesse Durante le eruzioni passate La loro distribuzione La loro variazione chimica La loro variazione Del tipo di depositi Lasciati dalle diverse eruzioni. Questo ci permette di capire Qual è stata l'evoluzione Nel tempo di un vulcano E qual è stata la gamma Di variabilità Nel tipo di attività Del vulcano stesso. Oggigiorno per studiare i vulcani Si usano anche strumenti nuovi In particolare i modelli matematici. Riguardo a questo fenomeno All'Istituto Nazionale di Geofisica E Vulcanologia di Pisa In collaborazione con il Cineca Il Centro di Supercalcolo di Bologna Abbiamo sviluppato Un nuovo modello matematico Che permette di descrivere La dinamica dei flussi piroclastici Ovvero permette di descrivere Come si formano E come si propagano Questo è anche molto importante Per arrivare a stimare L'impatto, il danno Che questo fenomeno Estremamente pericoloso Produce sul territorio circostante. E quali la sequenza Pericolastici flow Il model does not attempt To reconstruct and predict Past or future events precisely But to represent them As accurately as possible Therefore, it describes The main characteristics Of a natural phenomenon And allows to assess The effects on things and persons It is an innovative And highly technological model That takes full advantage Of current resources And computing power Comunque siamo usciti Un po' dall'era Pionieristica del calcolo E siamo entrati In un'era In cui veramente Le simulazioni del calcolatore Possono cominciare A fare previsioni Che possono dare indicazioni Indicazioni agli esperti Per valutare meglio L'età La simulazione Produce È una possibilità Aparcola Di quantità Che devono considerare Dato l'ingegnere C'è una relazione direta Bentre C'è una relazione Della cosa che è producita Nella simulazione E cosa che bisogna usare Per proteggere Le bambini Dopo l'eruzione di Montserrat Del 1994-95-96 Montserrat ha avuto eruzioni Negli anni 90 Che sono durate Un certo numero di anni costatammo che i flussi piroclastici pur avendo una forza devastante enorme nella parte centrale risparmiavano buona parte delle costruzioni nelle propaggini più laterali del flusso e allora questo ci incuriosì e incominciamo a studiare come prima di tutto si poteva modellare un impatto di danno, quindi uno scenario di danno da flusso piroclastico e in secondo luogo quali potevano essere le misure che si potevano intraprendere per proteggere le case nessun uomo resiste al passaggio di un flusso piroclastico le simulazioni di questo progetto ci aiutano a definire con precisione le aree di maggiore pericolosità e a vedere quali possono essere le variazioni cambiando alcuni parametri legati proprio all'eruzione Computer models that our colleagues in Italy have been pioneering can give us considerable insights into the possible actions of the volcano when it goes into eruption and these models can convey important messages to civil protection authorities and politicians and to the general public which it is very difficult to explain in words particularly in scientific words. It's not enough to just play with numbers, we must see what they mean as well. Models are not only important for studying natural processes, they are also useful for sharing important information with people, institutions, agencies and associations that operate on site. The model can be applied to all explosive volcanoes but has mostly been used in relation to the Vesuvius, the most studied and most monitored volcano in the world, and the one with the highest level of risk associated with it. Quando il calcolo è finito i nostri problemi sono in parte solo all'inizio perché il risultato del calcolo produce una grandissima quantità di dati e noi abbiamo bisogno di capire cosa sta succedendo. Quindi si pone il problema di come visualizzare i dati che il modello produce. Ecco che allora abbiamo bisogno di sviluppare delle tecniche che ci consentano di estrarre delle informazioni fra tutte quelle prodotte che ci permettono di capire come sta evolvendo il processo che stiamo descrivendo. Data are expressed by graphic visualization, 3D animations which translate the result of the calculations into images. In this case, the red color represents gas temperatures, which is one of the most important parameters in the dynamics of pyroclastic flows. The brighter red refers to higher temperatures, while the lighter one indicates lower temperatures. To add more details to the animation, we have inserted information relative to the topography of the land, and then projected on this a satellite image that photographs the Vesuvian area. Abbiamo simulato un'eruzione al Vesuvio. Lo scenario eruttivo che abbiamo preso a riferimento è un po' più piccolo dell'eruzione che ha seppellito Pompei, ma ad ogni modo significativo per il rischio vulcanico in quest'area. Le condizioni che abbiamo assunto per effettuare questa simulazione sono state imposte al cratere del vulcano e sostanzialmente sono state ipotizzate sulla base di quanto noi conosciamo del vulcano. Per il modello numerico che abbiamo utilizzato è necessario specificare le condizioni di velocità, di pressione, di temperatura al cratere e la forma del cratere stessa. This simulation does not show us what the next eruption will be like. It describes a plausible scenario among many possible ones. The reliability of the model derives from the comparison between the results obtained from the model itself, laboratory experiments and the data collected on field after explosive eruptions that have been well documented. For example, this model was able to correctly reproduce the dynamics of several explosive eruptions eruptions of the Soufriere Hills volcano in the island of Montserrat and the volcanic blast of the Mount St. Helens eruption in 1980. The same model was also applied to other explosive Italian volcanoes, like Campi Flegrei. Creo che sia molto importante fare questa attività di modellistica fisica applicata alla vulcanologia perché ci permette di dare delle spiegazioni anche a delle variazioni, a delle particolarità che vediamo sul terreno e che intuitivamente spesso non riusciamo a capire. Dopo molti anni che lavoriamo con questo modello matematico continuiamo a essere affascinati dal tipo di risultati, dalla loro ricchezza che ci deriva da ogni nuova simulazione che realizziamo con esso. Uno dei obiettivi futuri sarà quello di cercare di quantificare quelle che sono le incertezze in gioco. Infatti sappiamo benissimo che non riusciremo mai a descrivere perfettamente e quindi anche a prevedere il fenomeno vulcanico, ma certamente possiamo fare uno sforzo per cercare di capire quanto siamo distanti dalla realtà e quant'è l'approssimazione che è insita nel nostro strumento matematico. Grazie a tutti! Grazie a tutti!